Ciao a tutti amici di Pistachissimo.it, direttamente da Bronte, il panettone al pistacchio del Caffè Galaxy. Che figo il nome di questo bar, Caffè Galaxy. Vabbè, andiamo a vedere com'è. Me lo ha segnalato uno di voi, è stato il panettone del suo Natale 2017, dice buonissimo e quindi andiamo a vedere. La scatola si presenta molto bene, molto luccicante, molto natalizia, ma direi di andare subito ad aprirlo. E dentro, sua maestà, il panettone. È bellissimo, ma andiamo a vedere, come sempre, l'etichetta. Si tratta di un panettone semplice, senza uvette e senza candidi. E abbiamo sia il pistacchio tritato in mezzo all'impasto, quindi mi aspetto un colore un po' più scuro dell'impasto, sia il ripieno di Nutella di pistacchio, vabbè Nutella, crema di pistacchio, ci siamo capiti. Purtroppo, data l'artigianalità dell'etichetta, non è indicata la percentuale esatta di pistacchio, ma per quello non c'è problema, il mio palato riuscirà a fare una stima precisissima. Ovviamente scherzo, ma in fondo quel che voglio dire è che i numeri contano poco. Mi baso esclusivamente su quanto sento il sapore di pistacchio. Ed eccolo qua. È veramente spettacolare, bellissimo, pesantissimo, supera ampiamente il chilo. E guardate che meraviglia! Il pistacchio sopra è veramente stupendo. È evidente che si tratti di pistacchio di bronte, veramente fantastico. Sto letteralmente morendo di fame, quindi andiamo ad assaggiarlo subito. Andiamo a tagliarlo. E già sento dalla resistenza e dalla consistenza nei confronti del coltello che la crema di pistacchio all'interno è veramente abbondante. Andiamo a verificare. Ed eccolo qua. Wow! Mamma mia che spettacolo! Wow wow wow! Allora, niente poco di meno che una tonnellata di farcitura di pistacchio, ma c'è anche da questa parte. Fantastico! E poi come mi aspettavo, l'impasto è molto molto scuro perché è tutto impastato con il pistacchio. Fantastico! Mamma mia! Sono veramente impressionato. Tra l'altro il profumo che sprigiona è pazzesco. Vado subito ad assaggiarlo. Mmm! E va bene! Guardate qua! Che meraviglia! Wow! L'impasto è super super soffice ed è buonissimo! Mmm! Wow! Ho capito perché si chiama Caffè Galaxy, perché questo panettone è spaziale. Ok, battuta tristissima, scontatissima, ma vi fa capire quanto mi sia piaciuto questo panettone. È veramente buonissimo, uno dei più buoni che abbia mai mangiato. È azzeccatissimo il bilanciamento dei sapori con questo impasto morbidissimo, gustoso, ma al contempo delicato che non va in alcun modo a coprire il sapore della copertura né tantomeno della crema. ma poi la crema è super abbondante, veramente buonissima, quindi sono veramente in estati, io lo straconsiglio. E quindi se dovessi dare un voto generale a questo panettone gli darei 6, 7, buonissimo! Se devo giudicarlo esclusivamente sul gusto del pistacchio, il voto è questo. Perché non in massimo? Perché la crema, credo sia una 30%, è veramente buonissima, il pistacchio si sente, ma non raggiunge quel picco altissimo che fa guadagnare in genere il quinto pistacchio. Però, capiamoci, è fenomenale, io ve lo straconsiglio e grazie a chi me l'ha segnalato lo scorso Natale ha fatto un'ottima scelta. Ah, e complimenti al Caffè Galaxy, se volete provarlo lo trovate a Bronte, fanno tantissime altre cose molto molto buone oltre il panettone. Con questo è tutto, un saluto e al prossimo video!